Assessore Marcheggiani, sono partiti i lavori alla riserva d'Annunziana, l'obiettivo è quello di farne un centro visite per i ragazzi delle scuole. Sì, di completare tutti i lavori che fino adesso erano stati fatti già dalla parte ludica con questo finanziamento dell'Europa e devo dire un grazie a tutta la struttura interna del Comune e ai nostri agronomi che sono riusciti a vincere questo progetto europeo di 200.000 euro di cui appunto 150 saranno proprio per stabilizzare il centro visite nell'interno della bellissima struttura dell'Aurum e quindi finalmente la riserva ha un luogo, ha un contenitore dove tutti i suoi contenuti e tutte le peculiarità vengono ad essere sviluppate ed esaltate e poi dopo tanti giorni dai lavori che saranno fatti ci sarà nella parte sud dell'Aurum tutta un'intera parete che sarà poi fruibile per tutti i bambini e tutti i visitatori del centro accoglienza e funzionerà nella moderna metodologia del touch per cui basterà sfiorare questa parete e compariranno tutte le caratteristiche, tutte le specie, arbore che fanno parte della riserva che sono circa 365 e quindi c'è una grande ricchezza della nostra riserva come biodiversità. Inoltre nell'interno della riserva quello che adesso è quella casetta in legno che voi conoscete vicino al campo da bocce lì una cooperativa che ha vinto questo bando farà corsi di educazione ambientale.